Inizia questo martedì l'Eurovision Song Contest a Malmo. Per tutta la settimana è massima allerta per le strade della città svedese, dove sono stati dispiegati centinaia di agenti di polizia armati provenienti da tutto il paese e persino dalle vicine Danimarca e Norvegia. Un rapporto interno della polizia ha evidenziato le potenziali minacce alla sicurezza dell'evento, tra cui gli attacchi informatici e i possibili disordini durante le proteste pro-Palestina. Inoltre il rapporto definisce la Svezia obiettivo primario del terrorismo islamico.